E' trascorso un anno esatto dal rogo del primo agosto scorso che distrusse una parte della riserva dannunziana di Pescara e oggi il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci a Laurum ha fatto il punto sui lavori portati avanti negli ultimi 12 mesi assieme al gruppo composto da un pool di esperti. In un anno abbiamo lavorato tantissimo con il gruppo di lavoro che abbiamo creato subito dopo l'incendio dove ci sono esperti di chiara fama. Quell'incendio è stato drammatico, quel giorno nessuno dei pescaresi che era presente in città ma anche quelli che non c'erano potrà scordarlo. Le mie lacrime, è vero, erano le lacrime di tutti i pescaresi perché vedere una parte della nostra pineta distrutta è stata una cosa drammatica però non ci siamo fasciati la testa, abbiamo cominciato a lavorare da un minuto dopo per fare in modo che la pineta potesse tornare sempre lussureggiante e bella come l'abbiamo vissuta per tanti tanti anni. Questo gruppo di lavoro ha operato per la pulizia della pineta, sta operando costantemente per seguire e monitorare tutte le attività naturali che si stanno svolgendo, abbiamo ripulito le aree che erano state colpite dal fuoco, abbiamo riaperto una parte della pineta, abbiamo dato anche un incarico all'Università dell'Aquila che sta seguendo puntualmente questi lavori. Insomma stiamo operando a 360 gradi, in un anno non ci siamo mai fermati, abbiamo anche installato un sistema di telecamere. Il comune, come ha spiegato il primo cittadino, incasserà 1.200.000 euro dall'assicurazione e i soldi verranno tutti utilizzati per effettuare lavori all'interno del polmone verde cittadino. Abbiamo definito, oramai siamo proprio ai passaggi finali, la questione del risarcimento del danno assicurativo e avremo a disposizione 1.200.000 euro da investire tutti all'interno della pineta per fare in modo che ci sia anche un allargamento della pineta stessa.